Torna in campo l'ex sindaco di Capaccio Pestum, il medico Vincenzo Sica. La sua candidatura a sindaco per il dopovalumbo è ufficiale, costituito anche il coordinamento elettorale con una struttura la quale impegna diverse figure responsabili dalla costituzione delle liste alla comunicazione, dalla pianificazione alla gestione organizzativa. Quest'ultima affidata da Enzo Sica al fratello Franco, eliminando così le voci che li volevano proseguire su binari diversi. Il candidato Vincenzo Sica sarà ospite a Sud TV nella trasmissione Fatte Rindorni condotta da Maria Rosaria Sica che andrà in onda mercoledì sera alle ore 21.10.